I lavori per il raddoppio della linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini. I lavori prevedono la realizzazione di un nuovo tratto di 12 km in affiancamento al binario esistente, l'eliminazione di 7 passaggi a livello e la nuova galleria di Serravalle. L'andamento dei lavori, che anzi stanno andando bene, sono arrivati al 70% di realizzazione di questo primo lotto. RFA ci sta dicendo che sono in grado di rispettare il cronoprogramma che dovrebbe portare al completamento delle opere entro fine del prossimo anno. Grazie a questa nuova infrastruttura crescerà la regolarità dei treni sulla tratta, diminuiranno i tempi di percorrenza e migliorerà la circolazione stradale dell'aria. Quindi stiamo investendo risorse anche regionali su lavori come quello del raddoppio della Pistoia-Lucca. Sono opere di rango statale, ma pur di dare il via a questo raddoppio, che è un'opera storica, abbiamo messo 235 milioni a disposizione, così come abbiamo messo 200 milioni a disposizione per la realizzazione della Darsena Europa, così come il raddoppio della ferrovia Granaiolo-Empoli è collegata appunto a questo pacchetto della Pistoia-Lucca, che è un pacchetto complessivo che abbiamo condiviso e concordato nel 2015 con il governo. Vi ricordiamo che proprio per garantire lo svolgimento di questi lavori, la circolazione dei treni, anche per il mese di novembre, sarà interrotta nel fine settimana, dal 10 al 12 novembre, e sarà attivo un servizio bus sostitutivo tra Pistoia e Montecatini.